Buonasera a tutti, stasera su Storia Glocale abbiamo con noi Giovanni Cecini, un piacere averlo, per presentare il suo libro I gerarchi fascisti che vedete nella sua libreria. Leggo una biografia, grazie, leggo una biografia per chi non lo conosca. Giovanni Cecini è nato a Roma nel 79, l'Aula dei Scienze Politiche e Lettere e Filosofia, collaborato con gli uffici storici dello Stato Maggiore dell'Esercito, dopo aver fatto l'ufficiale complemento, anche con lo Stato Maggiore della Difesa, l'Armario dei Carabinieri, il Museo Storico della Guardia di Finanza, il Ciclo Pediatricano e il Rai Storico. Svolge attività di divulgazione, non solo di cineferia, ma anche di storia, di divulgazione storica, grande divulgazione storica, nel suo canale YouTube che ha il suo nome stesso, Giovanni Cecini, è del docente presso l'Università Niccolò Cusano e autore di numerosi volume, tra cui i generali di Mussolini nel 2016, l'incredibile storia della Seconda Guerra Mondiale nel 2019 e i gerarchi fascisti appena uscito nel 2022, pubblicato dalla Newton Compton. Nel 2021 è stato finalista della sezione scientifica del premio Acquistoria in Piemonte. Questo dizionario che Giovanni Cecini ha fatto, veramente esaustivo e un taglio divulgativo alto, perché Giovanni Cecini è un grande conoscitore di archivi, è un grande conoscitore anche di documenti storici, è appassionato di letture, ha fascino anche del particolare inedito, la curiosità stessa anche del carattere di chi erano questi gerarchi fascisti. Sul fascismo, ricordiamo, cent'anni della marcia su Roma, si è scritto molto, ci sono stati diversi dizionari, ricordiamo appunto quello anche una della stessa Vichy de Grazia, credo abbia fatto un dizionario di cui è luzzato, questo di Giovanni invece è aperto al grande pubblico, cioè lui vuol far vedere attraverso una semplicità di scrittura, una facilità di scrittura, chi erano questi gerarchi fascisti, chi erano tanti. E lui li ha suddivisi, li ha suddivisi nei quadrumbiri, ricordiamo tutti il quadro di Balla, la marcia su Roma, chi erano appunto i quadrumbiri? Michele Bianchi, Italo Balbo, Emilio De Bono e Cesare Maria dei Vecchi. Poi c'erano i puristi, quelli che Giovanni di Fenicetali, Luigi Federsoni, Augusto Turati, Giovanni Giuriati, che fu anche a Fiume, e Leandro Arpinati. I calcolatori, quelli appunto che erano più smagati, diciamo così, Costanzo Ciano, Guido Buffarini-Guidi, che ebbe un ruolo determinante nella Repubblica Sociale Italiana e questo semmai ci ritorneremo su una puntata dedicata alla Repubblica Sociale, che anche lì si è letto molto e quindi ora parliamo delle origini. Poi più in là parleremo anche della Repubblica Sociale. Poi Renato Ricci e Dino Alfieri. I diplomatici, quelli che dal fascismo trassero anche dei benefici, bisogna dirlo, insomma. Dino Grandi, Galeazzociano, Giuseppe e Bastianini. Poi c'erano gli ideologi, Giacomo Cebo, quello della legge elettorale del ventiquattro, Giuseppe Bottai, che abbiamo presentato qualche mese fa, Nicola Delia ci ha scritto una bella biografia su, Giovanni Gentile, di cui ho letto diverse biografie, quella di Gabriele Turi, trovo che sia la migliore, e Tullio Ciacchetti. Poi ci stanno gli estremisti, gli estremisti quelli decisi, insomma, morti. Roberto Farinacci, nato a Esernia, qui vicino a Piedimonte, però vivente, cioè visse a Cremona, a Gilles Starace, che morì perché preso, faceva frutini a Milano, Giovanni Preziosi, Irpino Campano, giornalista, che io ho avuto modo di leggere quando lui dirigeva il Mezzogiorno, che pareva una persona equilibrata, insomma, almeno nel 23, poi dopo invece, con la deriva antisemita che prese, anche lui, fece una brutta fine, e Alessandro Pavolini, che morisse, quindi, poi c'erano gli imperialisti, Attilio Teruzzi, di cui con Giovanni prima si discuteva di questa biografia che ha fatto Vigli Le Grazie, il prefetto fascista, una storia d'amore, potere e moralità nell'Italia di Mussolini, che presenteremo più in là, Alessandro Lessona, Emilio Enzio Calbiati, della milizia volontaria nazionale fascista, e poi c'erano i militanti, Ettore Muti, che d'annunzio stesso definisce degli occhi verdi, Adelchi Serena, Aldo Vidussoni e Carlo Scozza. Ne sono tanti, e quindi Giovanni ha fatto un lavoro veramente di metterli insieme, di scegliere quelli più importanti, perché veramente ne sono, se uno prende già i manuali, quelli che faceva Missoni sulle cariche del fascismo, vedete che ne sono in infinità, però Giovanni ha scelto quelli più significativi. Io chiederei a Giovanni, lasciandolo parlare, perché lui veramente è una competenza, lo fa con amore, con passione questo lavoro, di ognuno, di ogni categoria, io gli chiedo di riscriverci la personalità, quello che ha fatto. E del primo io sceglierei, dei quadrumbili, sceglierei Emilio De Bono. Poi di ogni categoria ti faccio la domanda. Prego Giovanni, a te. Grazie a tutti, grazie per avermi invitato, per darmi l'occasione anche di parlare di questo mio lavoro, di questa mia ricerca, appunto in occasione del centenario della Marcia su Roma, che ha visto tante pubblicazioni sul fascismo, quindi mi rendo anche conto che il lettore che si trova ad andare in libreria si trova una valanga di testi. Io ho cercato di dare il mio contributo, appunto facendo una selezione di trenta personaggi che potessero in qualche modo rappresentare lo spettro di quello che è stato il fascismo, perché il fascismo appunto è stato sicuramente Mussolini con la sua capacità di intercettare determinate situazioni e quindi di esprimere anche con tutta la brutalità, la violenza, l'esasperazione della politica fascista. Ma era interessante anche analizzare tutti quei collaboratori più o meno attivi, più o meno asserviti a quel tipo di politica che lo hanno accompagnato nei vent'anni, nei oltre vent'anni di fascismo. De Bono tra i quadrumbiri è uno dei più interessanti, un personaggio particolarmente eclettico che aveva vissuto la sua vita già matura nelle forze armate, era già generale, durante la prima guerra mondiale, un personaggio che era dedito all'insoddisfazione personale, che arriva al fascismo quasi perché non trova soddisfazione in altri ambiti. Un uomo che ha visto sempre nella sua vita la competizione e in genere ha sempre perso in questa competizione con Badoglio e quindi è interessante anche andare, e questo è l'elemento che mi ha portato poi a scegliere i trenta personaggi, oltre alla propria caratterizzazione personale, perché appunto ciascuno dei trenta rappresenta una sfaccettatura interessante e anche perversa ovviamente del fascismo con i propri eh grandi difetti eh ma era interessante andare a capire ciascuno di questi personaggi anche in relazione agli altri, quindi magari eh ne ho scovati alcuni meno noti, pensiamo a Vidussoni, Aldo Vidussoni che credo io sia forse il primo a a tratteggiarne una biografia, diciamo grosso modo tutti gli altri gli altri ventinove possono avere avuto gli onori della cronaca in alcuni momenti della storiografia. Beh Vidussoni è un personaggio assolutamente eh marginale nella propria notorietà. Ebbene questo mi era interessante perché appunto anche egli come tutti gli altri rappresenta un pezzetto di un di un puzzle più generale. E tornando a De Bono, De Bono appunto è quel personaggio che eh per paradosso eh voterà il venticinque luglio contro eh Mussolini non consapevole di quello che sarebbe successo perché poi questo è l'elemento interessante eh di molti di questi personaggi che ehm si trovano sicuramente a ottenere dei grandissimi vantaggi dal fascismo pensiamo appunto alle cariche alle cariche eh politiche che in alcuni momenti della vita del regime eh possono avere avuto con alti e bassi perché poi eh l'elemento eh determinante di Mussolini nella sua capacità di mediatore era quello sempre di eh ricattare eh ciascuno dei propri collaboratori con il pretesto di poterli sostituire eh periodicamente quindi questo li teneva un po' a a a briglia corta nella 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 fedeltà che che ciascuno di questi potesse avere nei suoi confronti e e e e De Bono eh rappresenta un po' la fedeltà a Mussolini ehm non possiamo non possiamo ovviamente esentarlo da colpe che egli sicuramente ha accumulato eh negli anni eh allo stesso tempo eh probabilmente uno dei pochi che ha saputo ehm incassare nel senso di scontare eh delle quarantene politiche anche per colpe non sue pensiamo alla a quando eh dopo il delitto Matteotti eh fu uno dei dei più colpiti eh appunto perse tutti i suoi incarichi eh in eh in patria e ehm trovò una sua eh periodica rigenerazione eh in ambito oltremare egli eh rivestì mh eh l'incarico di governatore eh in eh in colonia poi divenne sottosegretario alle stesse colonie poi divenne eh ministro delle colonie e poi andò a comandare per un primo tempo il corpo di spedizione eh italiano contro eh l'Etiopia quindi le 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 diciamo l'attacco per essere poi sostituito da Badoglio quindi ci troviamo di fronte a una realtà variegata in cui eh De Bono rappresenta eh in maniera ehm diciamo plastica come eh questi ehm questi gerarchi potessero divenire molto spesso dei eh dei ehm dei pezzi di una scacchiera di cui Mussolini si avvaleva a proprio esclusivo piacimento che appunto però eh diciamo ne ottenevano dei vantaggi eh spesso venivano messi ai margini però poi con la speranza sempre di tornare in qualche modo eh utili in un secondo momento eh alla fine eh la la fine di di De Bono è particolarmente drammatica perché appunto eh ormai eh ormai vecchio verrà fucilato ai primi del quarantaquattro eh a Verona e e con anche una dignità una dignità molti di quelli appunto quelli che vennero fucilati a Verona eh tra cui lo stesso eh Galeazzo Ciano eh espressero paradossalmente vissero molto spesso in maniera eh nefasta la propria vita e anche su tutti i propri incarichi ma in quella circostanza ebbero la dignità di morire eh di morire con con grande con grande serenità d'animo per De Bono era facile infatti egli stesso raccontò accorciate di poco la mia vita visto che ormai era 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 ottantenne quindi diciamo non è che eh potesse sperare di poter vivere eh molto di più rispetto a un Ciano che era sicuramente nel pieno della sua della sua della sua vita quindi in questo eh De Bono rappresenta veramente uno dei esempi più classici eh di come ehm eh il desiderio ehm di ehm ritornare buoni in una circostanza utile eh anche eh portandosi dietro delle recriminazioni però sempre per colpire altri eh egli eh venne sostituito eh da da Alessona Alessandro Alessona un altro personaggio poco poco noto poco conosciuto che morirà centenario cioè una vita lunghissima anche eh dopo la seconda guerra mondiale sarà un parlamentare eh del delle file eh della della destra neofascista ebbene eh Lessona che preparà le sostanzialmente le scarpe a De Bono quando eh prenderà il suo posto al ministero delle colonie ebbene De Bono aspettava il momento in cui di ripagare con la stessa moneta Lessona e aveva pazienza visto visto che appunto eh gli anni lo aiutavano quindi avrà modo di eh di vendicarsi quindi l'elemento interessante di queste biografie è di come ehm eh sono l'espressione di una gestione anche politica autoreferenziale perché appunto poi erano ciascuno di loro era l'atore di interessi personalistici che vanno anche un po' a scardinare quell'idea che molto spesso viene eh si è si è protratta nei decenni no di un regime brutale ma sostanzialmente onesto beh eh a lei leggere le biografie di molti di questi personaggi notiamo che gli affarismi eh le tangenti le le corruzioni che eh ci possono stupire in epoca ehm recente diciamo pensiamo negli ultimi agli ultimi trent'anni per dire beh eh sono connaturati anche in molti di questi gerarchi che non avevano difficoltà a a a curare il proprio anche il proprio tornaconto personale economico oltre alla gestione brutale di una certa politica. Sì prendiamo sì prendiamo Rossoni ma non solo Galeazzo Cian se sono buffarini quindi gente che sta richiesta che se la magistratura indipendente avesse puntato all'epoca gli occhi su questi personaggi quelli di quelli è scritto tu insomma 40 per cento sarebbe andato in calè cioè farinacci insomma eh come no come no farinacci che eh starace eh sì diciamo starace forse era il meno eh il meno compromesso sotto l'aspetto eh economica per economico per semplice motivo tanto tanto morirà poverissimo diciamo eh si ricorda che eh nei nei bui mesi del periodo della Repubblica Sociale eh praticamente andava cercando un piatto di minestra andava nei 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 luoghi eh di dove distribuivano pasti pasti caldi gratis perché non aveva i soldi neanche per per mettere insieme il pranzo con la cena quindi ehm il eh l'elemento caratterizzante di molti di questi personaggi è di come essi potessero basta passare in maniera così breve dalle stalle alle stelle e dalle stelle alle stalle perché appunto questo ricambio continuo e questo ricatto continuo di Mussolini verso questi personaggi perché appunto poi alla fine eh la la le repentine le repentine promozioni erano figli anche eh di eh di compromessi di compromessi sempre a ribasso perché poi pensiamo anche a quelli che magari erano portatori di idee interessanti e su cui e qui mi fermo nel senso non voglio dare sì 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 io poi andiamo avanti allora i puristi risaltiamo andiamo sui calcolatori eh Fido Buffarini Guidi che quello che da quando io ho lessi la prima biografia avevo tredici anni Ricerco Lier credo il duce duce pare a quello più tra virgolette spreggevole insomma come persona prego 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 Giovanni sì ehm Buffarini Guidi che ehm ha rappresentato eh potremmo dire il potere occulto del fascismo consigliando che è stato per tantissimi anni il sottosegretario al Ministero degli Interni ehm l'elemento eh portante di Mussolini eh questo vale un po' per tutti è che Mussolini in lunghi periodi della del suo governo eh eh deteneva anche la titolarità dei portafogli dei ministeri per lunghi periodi è stato anche ministro dell'interno ministro degli esteri ministro della guerra ministro della dell'aeronautica ministro della marina ebbene quindi poi sostanzialmente delegava a suoi eh fedeli eh la gestione pratica di questi ministeri a cui attribuiva l'incarico di sottosegretario quindi di fatto il sottosegretario era il capo del ministero proprio perché la la titolarità era di Mussolini ma di fatto Mussolini non la esercitava perché aveva mille incarichi e non poteva poi gestire anche ciascun ministero ebbene eh Buffarini Guidi che fu appunto il detentore eh per lunghissimo periodo dalla dalla dall'inizio degli anni trenta eh al Ministero degli Interni eh ha rappresentato eh quella mh quel volto scuro eh della gestione ehm anche appunto poliziesca della gestione eh diciamo cruenta eh della dell'ordine pubblico eh determinando eh anche grossi attriti all'interno dello stesso regime pensiamo a quanto eh potesse essere determinante eh la lotta interna tra ehm le filiere eh del partito e quelle del ministero dell'interno questo è un elemento molto interessante che vede ehm Buffarini Guidi eh il protagonista indiscusso perché perché mh Mussolini nella sua ehm nel suo desiderio di accentrare a se stesso e quindi di controllare metteva questi gerarchi l'uno contro l'altro ma sempre con eh il proposito di porre lo Stato eh preminente rispetto al partito perché riteneva che il partito sostanzialmente dovesse essere eh il la cinghia di trasmissione tra lo Stato e la società. Ebbene paradossalmente eh nello stesso periodo in cui eh Buffarini Guidi fu ehm fu eh sottosegretario all'interno eh almeno nella prima parte per un lunghissimo periodo fu Achille Starace il segretario del partito e non ci mancarono eh attriti feroci eh tra eh tra i due perché appunto eh entrambi erano latori in qualche modo della eh potere eh potere statale o comunque il potere fascista anche in periferia e quindi si andarono a creare quei frequentissimi scontri tra federale ossia il eh rappresentante del partito nelle realtà locali e il prefetto ossia il rappresentante del ministero degli interni a livello locale. Quindi eh Buffarini Guidi rappresenta veramente eh per un lunghissimo periodo eh quel ruolo di grande ehm smaneggione potremmo dire intrallazzino anche con eh l'utilizzo di interessi personali diciamo che fu un po' anche l'anello di congiunzione tra i vari affarismi che passavano intorno alla famiglia di Mussolini pensiamo come egli fosse l'unico che intratteneva contemporaneamente rapporti cordiali sia con donna Rachele che con Clara Petacci quindi in qualche modo era un personaggio eh particolarmente ehm scomodo anche allo stesso Mussolini ma come in tutte le circostanze il ricatto è sempre reciproco quindi faceva comodo a Mussolini avere un personaggio così inquietante al la propria corte ma perché lo temeva anche e stranamente poi se l'hai ripreso pure durante la Repubblica sociale quindi eh questi figuri ogni tanto ritornano e e diciamo non mancano mai di esprimere tutta la propria eh la propria eh perversione mh perversione tra l'altro espressa anche durante le odiose eh periodi della campagna razziale perché Buffarini qui riparassualmente si trovò sia a occuparsi di la prima diciamo la prima attività antisemita quella diciamo del Regno d'Italia per capirci dal trentotto alla eh al quarantatre e poi quella ancora più eh nefasta durante i mesi della Repubblica sociale quindi e in tutte e due le circostanze ehm eh diciamo non sfigurò in brutalità in eh attività veramente meschine questo è un elemento sicuramente a suo eh che lo lo condanna eh in tutta la linea tra l'altro appunto eh fu uno dei pochi che ebbe un eh un processo diciamo regolare passatemi il termine diciamo diciamo che nel periodo della diciamo a cavallo tra la liberazione e i primi mesi dopo la liberazione i processi vennero fatti anche con una certa rapidità e quindi non sempre le garanzie potevano essere di garanzie dovessimo parlare però diciamo fu fu l'uno uno dei pochi sicuramente che ebbe eh un trattamento diciamo di favore nel fatto che il dibattimento fu eh eh quantomeno eh regolare poi appunto pure lui finì comunque ehm ehm diciamo condannato a morte perché appunto sicuramente eh aveva delle responsabilità che eh non permettevano di eh di scagionarlo né tanto meno di in quel momento specifico di trovare una pena alternativa a quella eh della morte perché diciamo che era temuto anche dai tedeschi e non era cosa da poco al senso che i tedeschi eh lo lo guardavano con grande con grande sospetto perché appunto anche nei confronti dei tedeschi eh aveva delle delle occasioni di grande eh di grande doppiezza quindi un personaggio molto inquietante. Certo. Tra gli ideologi il meno noto che Giacomo Acerbo e con la legge elettorale abbiamo detto Giuseppe Bottai voleva fare una riforma della scuola insomma erano grandi intellettuali. Sì. Collaboratori Giuseppe Bottai era il padre di Aldo Moro uno dei collaboratori. Sì. Poi Giovanni Gentile biografato al massimo. Quello meno conosciuto è Tullio Cianetti. Sì. Io farei la domanda appunto su su Tullio Cianetti. Prego. Sì. Tullio Cianetti un ehm un personaggio che eh ha avuto la diciamo Tullio Cianetti è una sorta di Bottai in sedicesimo passatemi questo questo modo di eh di 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 definirlo ehm ebbe una sua eh costante crescita all'interno del sindacalismo fascista mh possiamo dire che la sua eh la sua parte fondamentale della sua vita eh politica eh lo portò a eh ricoprire incarichi sempre più crescenti all'interno della delle varie filiere dei sindacati girò eh per tante località d'Italia veramente dal nord al sud lui era Umbro ehm con una realtà mh era di origine veramente modeste quindi diciamo ebbe una vita eh particolarmente disgraziata che egli eh ha raccontato in una sua una sua sorta di di memoria autobiografia appunto che eh però allo stesso tempo eh nonostante fosse portatore di diciamo mh aspettative passatemi il termine progressiste sotto l'aspetto dei diritti dei lavoratori anche egli eh poi alla fine si fece si fece rapire da ehm dai giochi di potere quando appunto eh divenne il eh il massimo esponente del ministero delle corporazioni quel ministero delle corporazioni appunto che aveva visto già eh già lo stesso Bottai che in qualche modo aveva cercato anche egli di apportare con la carta del lavoro ma poi dopo nel nel comparto della scuola con la carta della scuola quindi con una certa mh predisposizione a delle riforme che avevano qualcosa di interessante qualcosa di positivo al proprio interno ma che anche lo stesso Cenetti poi alla fine si fa prendere e ehm nel periodo eh nel periodo diciamo tra il eh febbraio e il il maggio del mio centoquarantatré quando sarà il titolare del ministero delle corporazioni non avrà eh difficoltà anche egli a essere profondamente eh critico violento nei confronti dei lavoratori quindi questo ci offre anche eh come il come si dice la spiegazione che molto spesso nel salire i gradini delle filiere del regime eh anche coloro che magari avevano una certa onestà intellettuale nel portare delle istanze diciamo condivisibili sotto certi aspetti si facevano comunque prendere eh da una da un certo rapimento eh di di regime quindi anche un personaggio come Cenetti che aveva avuto la sua eh più grande esperienza eh accanto ai lavoratori quindi insomma era era consapevole delle problematiche che esistevano dei nei eh con i lavoratori aveva anche tra l'altro avuto modo di ehm condividere alcune istanze con altre delegazioni internazionali aveva partecipato a dei congressi a delle a delle conferenze in cui appunto venivano eh trattati eh problemi eh del lavoro a livello internazionale ebbene anche egli poi alla fine si trovò eh invischiato in questi in queste situazioni eh la sua eh la sua di particolare importanza la sua partecipazione alla seduta del ventiquattro e venticinque luglio egli che era molto tentennante non riusciva essendo un tecnico non aveva la piena consapevolezza mh della reale portata di quella seduta tant'è che preso un po' dalla 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 furia della maggioranza che votò votò contro Mussolini anche egli votò contro Mussolini salvo poi durante la notte eh tornato a casa agitarsi e ripensarci e mandò una lettera a Mussolini in cui eh si pentiva di avergli votato contro e sostanzialmente ritrattava quel voto ebbene quel voto gli salverà la vita perché eh durante il eh processo di Verona eh tutti coloro che gli imputati presenti a quella a quella a quel giudizio vennero fucilati tranne Cenetti che nonostante fosse eh consigliato ehm condannabile perché aveva comunque determinato la cattura di Mussolini in qualche modo ebbe una sorta di attenuante che eh trasformò la pena in una pena detentiva poi con il eh l'evoluzione della guerra riuscì a salvarsi tant'è che appunto sopravvisse alla alla guerra però un personaggio interessante perché appunto ci evidenzia la metamorfosi graduale e costante eh di un ehm di un politico di un sindacalista di un esponente anche di cultura che aveva delle idee che appunto poi alla fine si fa prendere anche egli e in qualche modo queste idee vengono brutalizzate e quindi non possono che portare anch'esse alla oppressione alla 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 negazione di se stesse. Grazie Giovanni. Gli estremisti sono tutti interessanti quindi però dobbiamo sceglierne uno. Farinacci abbiamo detto quale Farinacci le si anche delle pagine molto belle di Corrado Stagliato. Achille Starace alla fine che fece l'abbiamo detta prima. Giovanni Preziosi che pareva quando iniziò nel ventitré un bravo giornalista poi alla fine si trasformò in un fanatico antisemita e Alessandro Pavolini. Io parlerei eh di 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 Preziosi. Di Preziosi. Sì eh Preziosi guarda io mh anticiperei un po' il eh il giudizio eh rispetto alla ventitré. Preziosi eh intanto era eh un ex prete quindi dobbiamo dire che ha avuto una sua eh formazione eh particolarmente eh movimentata nel senso che partiva da eh istanze legate ovviamente alla anche allo stato sociale alla 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 come si dice al cattolicesimo sociale quindi con delle istanze eh che potessero guardare a eh dei diritti egli ebbe numerose esperienze all'estero eh sia eh in Germania che in gli Stati Uniti in cui ehm portò avanti anche attraverso delle pubblicazioni eh i eh diciamo le rivendicazioni eh delle situazioni veramente miserrime di questi eh emigrati che si trovavano appunto in condizioni veramente disagiate e allo stesso tempo si fece prendere ehm sin da gli anni dieci diciamo alla vigilia della prima guerra mondiale diciamo io credo che la sua metamorfosi graduale che giustamente come hai detto tu diciamo ebbe i suoi diciamo i primi i primi strascichi importanti a partire dal ventitré e ventiquattro ma già eh prima della della prima guerra mondiale ebbe sicuramente ehm dei ehm degli elementi eh in nuce molto molto diciamo indicativi eh in un suo eh antisemitismo e anti giudaismo pensiamo come eh egli eh iniziasse sin dal quattordici a eh attaccare ferocemente per esempio eh ambienti finanziari italiane pensiamo alla banca commerciale perché riteneva che mh fosse eh l'espressione della cricca eh giudaico massonica ecco quindi questo elemento che tornerà che sarà eh caratterizzante della propria campagna eh di polemica una polemica che riguardare a trecentosessanta gradi perché appunto eh sarà veramente in viso a a molti mh collaborerà per lungo tempo con con eh con Farinacci ma anche in questo caso ci saranno dei momenti eh di odio e di amore perché diciamo a egli diciamo sicuramente non non stava bene eh a livello psicologico cioè aveva sicuramente dei dei problemi eh delle turbe anche con delle manie di persecuzione perché a un certo punto eh era noto come durante per esempio la la Repubblica Sociale Italiana non ebbe eh difficoltà a a presentarsi in Germania e eh e eh dicendo che eh Mussolini era pericoloso che non bisognava eh non bisognava seguire Mussolini perché voleva recuperare quel buffarini guidi che secondo preziosi aveva difeso gli ebrei perché non li aveva spogliati di tutti i loro beni a partire dal trentotto quindi veramente c'è c'è sempre una esasperazione e uno scavalcamento chi chi più era più più antisemita degli antisemiti appunto lo stesso preziosi che eh fu sempre insoddisfatto perché perché essendo un estremista ma l'estremismo fatto persona non si accontentava mai eh delle eh attività che potevano essere legate alla mediazione che invece venivano portate dalle attività di governo quindi sostanzialmente preziosi eh sarà uno dei pochi tra quelli che io analizzo i dei trenta che ebbe meno ruoli ufficiali perché appunto essendo eh talmente trancian nelle proprie posizioni appunto ehm non mancava occasione di denigrare eh tutti e tutte le posizioni appunto quindi diventava lo scomodo per lo stesso Mussolini che non riusciva a gestirlo perché appunto era talmente invasato delle proprie posizioni che accusava la massoneria continuamente cercando e trovando la massoneria anche dove non era oppure cercando e trovando gli ebrei dove non erano quindi diciamo eh non ebbe appunto ehm molto spesso ehm eh un ruolo ben preciso perché appunto riusciva anche a creare zizzania eh all'interno di eh queste questa continua volontà di Mussolini di cercare un equilibrio tra le varie anime quindi nel periodo della Repubblica Sociale Italiana nonstante poi gli venisse gli fosse stata data un ruolo come ispettore eh della razza un un incarico non ben definibile perché non aveva neanche poteri suoi ma che lo portava sempre in competizione con i tedeschi eh con lo stesso ministero della dell'interno quindi contro Buffani quindi quindi un personaggio che ha fatto dell'estremismo eh della ehm della ideologia più 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 sfrenata più più incontinente potremmo dire e quindi anche diciamo veramente nefasta perché appunto eh e creò un sacco di problemi allo stesso regime fascista e quindi molto spesso eh venne venne messo da parte eh è sintomatico del fatto che riuscì a litigare anche con Farinacci quindi diciamo che è è indicativo diciamo non riuscì a trovare neanche nella nella nell'estremismo un un punto di contatto con Farinacci il che era tutto dire quindi diciamo che eh riusciva a a a definire anche lo stesso Farinacci come 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 troppo moderato quindi detto detto da su Farinacci il che è tutto dire sì mentre parlavi pensavo che per un prossimo volume i giornalisti fascisti perché quell'antisemitismo i preziosi era lo stesso interlandi insomma in sostanza cioè molti ci hanno cioè preziosi abbiamo preso come epifenomeno c'è preziosi che poi ha fatto una fine tragica c'era messaggio perché è stato sì però interlandi gli altri che stavano lì non erano da me eh il manifesto la razza e quello mi interessava come no come no qualche anno fa il compianto franco uomo ehm cioè quelli che hanno preso la cattedra a propalare fesserie fesserie come no come no perché tra i dieci tra i dieci tra i dieci firmatari l'unico più intelligente era Nicola Pende scienziato di fama internazionale che purtroppo che purtroppo cioè mise consapevolmente a che fesso non è il resto insomma ne erano scienziati come posso fare e sai il discorso dell'antisemitismo ehm è un argomento eh molto interessante perché perché evidenzia eh molte sfumature eh il punto era che eh già di per se stesso appunto già l'antisemitismo ha delle basi delle basi ideologiche molto fragili sotto l'aspetto appunto scientifico e quindi non non ne stiamo neanche a parlare ma il problema ehm diciamo aggravante dell'Italia è che in Italia in Italia se in Germania aveva un suo impianto diciamo storico diciamo tradizionale no? Ci credevano eh diciamo diciamo che ci credevano eh credevano a un'idea abberrante ma avevano una loro idea in Italia mh era l'occasione per ciascuno di far carriera di proporre delle idee innovative che potevano essere convincente per un determinato settore della società se uno va a leggere eh il periodico la difesa della razza e io diciamo negli anni ho l'ho collezionato ce l'ho diciamo ho quasi tutti i numeri diciamo che ho il novanta per cento dei numeri della difesa della razza ho avuto questa questa brillante idea di 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 perché sono nella loro eh nella loro eh varietà inconcludente degli articoli molto preziosi perché perché ci ci offrono l'occasione per trovare in questa rivista tutto e il contrario di tutto il l'antisemitismo e il razzismo in Italia era l'occasione per ciascuno di trovare una mucca da mungere perché ehm era finanziato ovviamente dallo Stato da 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 regime eh era una rivista che diciamo ebbe degli alti e dei bassi perché non diciamo ebbe sicuramente il suo momento di gloria nel trentotto con una diffusione amplissima poi piano piano scemo fino ad arrivare al quarantatré però era un'occasione per farsi vedere per per ciascuno di poter esprimere qualsiasi idea strampalata qualsiasi idea esagerata che però rendeva credibile qualsiasi cosa per un popolo che purtroppo dopo eh quindici anni di regime non era più abituato a un senso critico e questo vale a maggior ragione nel periodo della guerra perché era l'occasione per trovare ogni volta un una causa un capo espiatorio o espiatorio nuovo alle sciagure militari italiane quindi diventava eh perdiamo la guerra ma no perché non siamo capaci perché c'è un nemico interno che non che non sapevamo c'è l'ebreo c'è il il nero c'è il massone c'è c'è sempre qualcuno che rema contro e non riusciamo e c'è sempre il discorso se lo sapesse Mussolini se Mussolini sapesse perché c'è qualcuno che rema contro e quindi la difesa della razza come anche tutte le altre riviste perché la difesa della razza è il più famoso il più noto il più eh diffuso ma esistevano anche altre altre mh altri pubblicazioni magari non della periodicità della difesa razza che fiancheggiavano questa eh questa mh questa ondivaga diciamo eh predisposizione al razzismo che rendeva rendeva perché poi alla fine cioè ciascuno poteva dire qualsiasi cosa e non c'era un dibattito critico o almeno era un dibattito critico ehm all'interno della della redazione ma che non veniva a non veniva a essere eh divulgato quindi ci troviamo di fronte anche ne so ai razzisti eh biologici biologici quelli che si basavano sul sangue oppure quelli spiritualisti quelli che dicevano non è il sangue ma il sentimento italiano che era era intangibile come che quello fai a definire lo spirito italiano quindi poi anche con una commissione eh sulle razze no diceva allora la razza italiana è pura eh è superiore come la razza tedesca e la razza giapponese perché erano alleati poi si capivano che diciamo era era difficile dire che la razza italiana era pura e la francese no beh sono tutti neolatini quindi di che stiamo a parlare e magari però il giapponese era anch'esso una razza asiatica pura rispetto al cinese o al coreano per dire quindi diveniva veramente un terreno in cui ehm c'era la massima libertà per come si dice come si dice eh eh chi la sparava più grossa ecco che tanto alla fine eh non c'era nessun dibattito serio e quindi anche personaggi come pende come diciamo personaggi che avevano un proprio credito accademico una loro credibilità si asserviscono vengono asserviti a questo a questo discorso perché perché fanno carriera perché appunto magari poi prendono il posto dei dei colleghi ebrei che vengono cacciati dall'università perché poi questo quello sì però 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 sì su quello sì poi pende comunque uno dei padri dell'endocrinologia italiana sì sì però purtroppo è un aggravante capito non è un aggravante è un aggravante però quello che dicevi giustamente prendono i posti dei colleghi e con il ritorno della repubblica ritorno della democrazia quelli che erano stati messi in cattedra non perdono il posto cioè là il cioè i professori ebrei cacciati fuori dall'università c'è stato un libro di israele qualche anno fa poi nel quando viene la repubblica non perdono il posto i professori che rimpiazzano gli ebrei eh questo è un grande è un grande problema per il periodo della repubblica italiana ci sono ci sono ci sono degli studi degli studi pensiamo per esempio a anche al ministero dell'interno alla giustizia pensiamo a azzariti che che era stato il era stato presidente del tribunale della razza che diventa presidente della corte costituzionale quindi di che stiamo a parlare e che sono giuristi e quindi ma dei genzi ma si hanno usato la legge poi però eh tra gli estremisti lasciando perde farinacce sappiamo a fine che fa interessante sia raffone abbiamo detto insomma uno che cagliarema il rass di cremoni si si la raccia insomma quello che inventa il salto del cerchio in fuga se giovanni preziosi abbiamo detto via di giovanni preziosi e chiudo quando scrissi la come si chiamano dice faccio mettere lavoro andai a studiare anche alla biblioteca nazionale napoli sezione meroteca dove ci sta la il mezzogiorno diretto all'epoca al ventitretta preziosi chiamavo con la pietra e mi disse con la pietra che scrisse negli anni sessanta per la feltrinelli nel libro del fascismo a napoli ha visto che bel giornale che era in effetti quello era era un bel giornale quello del ventitricano la bella pagina culturale poi preziosi però questo estremismo a fine lo porta alla morte chiusa sta parentesi io aprirei l'altra parentesi di un altro sfrenato sfrenato morì giovanissimo che aveva 43 anni alessandro pavolini qui qualche anno fa un nipote pare scrisse un romanzo eh che che io la essi ma la decina prego su alessandro pavolini dimmi sì qualcosa pavolini è una figura ehm particolarmente eh interessante che eh va ehm a braccetto con quella di Ciano le due vite sono praticamente delle vite parallele perché uno era fiorentino e l'altro era livornese nascono con pochi mesi di differenza e moriranno con pochi mesi di differenza e eh paradossalmente mh hanno vissuto nella mh tra la metà degli anni trenta e i primissimi anni quaranta ehm delle vite mh sinergiche eh si sono supportati a vicenda nella costruzione delle proprie eh fortune mh Pavolini eh proveniva dalla mh dal fascismo ehm cittadino di Firenze tant'è che sarà uno mh un personaggio particolarmente apprezzato a Firenze tra il cavallo tra gli anni venti e gli anni trenta per una fioritura anche intellettuale pensiamo al maggio fiorentino alla alla allo sviluppo di alcune mh di alcune eh iniziative mh culturale pensiamo alla ehm elementi urbanistici come la 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 stazione di Santa Maria Novella quindi era un personaggio che aveva delle doti delle doti eh anche organizzative che poi appunto si fece prendere e iniziò ad essere sostanzialmente era una una penna raffinata sapeva scrivere molto bene giornalista eh affermato e mh avrebbe avuto questa sua mh caratteristica che lo avrebbe reso eh celebre mh amante dell'arte amante del cinema ehm tant'è che appunto quando fu 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 ministro della eh della stampa della cultura popolare diciamo diffuse anche il ehm l'esperienza del cinema ebbe delle amanti nel cinema quindi diciamo questo elemento costante l'elemento del denaro e l'elemento del sesso che è un po' caratteristica di molti di questi di questi gerarchi e per paradosso egli che fu sostanzialmente poi una creatura eh di Galeazzociano perché diciamo si spalleggiarono durante la guerra d'Etiopia e poi sostanzialmente ehm trovò fortuna nelle grazie nella corte nel cosiddetto eh circolo ehm del gran ducato di Toscana nel senso quella sorta di 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 amicizie di 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 Toscani che in qualche modo ebbero modo nel tra la fine degli anni trenta e i primissimi anni quaranta venne definito il il gabinetto Ciano nel senso che era Ciano che sostanzialmente eh soprattutto nel trentanove nel rimpasto del mio centotrentanove inserì nel governo tutta una serie di suoi eh di suoi fedeli molti di questi di origine ehm Toscana quindi lo stesso Pavolini che ebbe grandissimi vantaggi dalla sua amicizia con Galeazzo Ciano poi sarà eh l'estremista più estremista nel periodo nei mesi bui della Repubblica Sociale italiana come ehm come segretario del partito eh fascista repubblicano e sarà colui che sostanzialmente portò alla morte eh l'ex amico eh Galeazzo Ciano quindi è un è un personaggio particolarmente inquietante anche perché appunto eh ci spiega come l'evoluzione di questi eh personaggi che riescono a trasformarsi gradatamente appunto fino alla al gennaio al gennaio febbraio quarantatré è uno dei tanti uno dei tanti che appunto gravita avendo dei ruoli governativi e che si scopre ehm il più fanatico il più violento il più ehm capace di vendette inenerrabili e diciamo riuscirà anche a a a portare alla morte il colui che era stato il suo il suo amico più più fedele colui che l'aveva aiutato tantissimo tant'è che appunto fu colui diciamo Ciano Galeazzo Ciano per ora molto spesso la causa di Paolini nella negli anni alla fine degli anni degli anni trenta appunto attraverso anche delle delle gratifiche eh personali appunto nel nell'evoluzione della sua carriera quindi è particolarmente interessante anche perché ci dà lo spaccato di come le alleanze e le amicizie all'interno di questi gerarchi fossero a geometrie variabili che mutano cambiano in base alle circostanze e in base anche alle eh necessità dello stesso Mussolini che poi diciamo gestisce modifica eh cambia come dicevo questi pezzi sulla scacchiera in base alle necessità senza poi crearsi scrupoli di eh estromettere l'uno o l'altro appunto alla fine porta cioè permette non fa nulla eh affinché il 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 genero il il marito del della moglie del marito della della figlia prediletta il il padre dei nipoti possa essere fucilato in questo modo così 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 brutto così inenarrabile con un processo eh veramente ehm ingiusto sotto ogni punto di vista quindi diciamo ehm quindi però è indicativo di di questo personaggio appunto che poi sarà continuerà ad essere uno dei più scalmanati dei più fanatici fino a arrivare appunto alla alla morte che lo vedrà diciamo sempre vicino a Mussolini convinto che fino all'ultimo c'è una possibilità di di resistenza di genere che non si non si arrende a non si arrende mai però non si arrende mai come l'atore di eh di di ideali di 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 valori negativi quindi quindi in questo senso è persevera in questa sua volontà distruttrice e autodistruttiva certamente tu ne parlasti mi pare quando facesti il commento al film Mussolini l'ultimo atto non voglio essere eh che quell'approccio lo mette bel film di Lizzani credo sia sul fascismo poi mi ha fatto un'idea nel ciclo del fascismo io farei una puntata fra qualche mese quando vorrai proprio sul processo di Verona e che secondo me uno merita il processo che ci stava ma anche lì mi pare una cosa un film il primo film di Lizzani del sessantadue perché poi quell'altro Mussolini è del settantaquattro sì sì tu farei una puntata sul sul processo di Verona eh il processo di Verona è un argomento molto molto importante perché ci eh ci evidenzia ehm la necessità della stessa Repubblica Sociale di trovare un un atto ehm un atto eh di generazioni di di creazione dell'identità della stessa Repubblica Sociale Italiana se pensiamo che a Verona nel giro di di pochi mesi poche settimane vi è l'idea di una costituzione poi una costituzione che in realtà non si realizzerà mai la Repubblica Sociale Italiana non avrà mai una costituzione effettiva però i i valori diciamo quelli diciamo il il decalogo diciamo che verrà espresso a Verona è il l'espressione più eh più estrema della violenza della sopraffazione dell'estremismo che appunto troverà la sua concretizzazione proprio nel processo che viene svolto nei confronti del ehm degli imputati presenti condannati poi a morte tra necianetti eh del gennaio del quarantaquattro quindi il processo verona rappresenta un po' il l'atto fondativo l'atto che giustifica la Repubblica Sociale in quanto tale appunto come elemento anche di ponte abbiamo eh giudicato abbiamo condannato i traditori del venticinque luglio e quindi siamo pienamente legittimati a poter portare il eh il eh la fiaccola del fascismo quindi è un non ha solo un valore nei confronti della punizione ai singoli imputati ma diventa anche l'espressione di un programma politico al senso che sappiate che i traditori noi li fuciliamo perché siamo portatori di quel tipo di politica ovviamente è aberrante eh non è che sto sto dicendo che eh però diciamo è è l'essenza stessa dove in quella circostanza si ribalta il il rapporto come ho detto prima no? Nel periodo diciamo del Regno d'Italia lo Stato era superiore al partito bene nella Repubblica Societaliana è esattamente il contrario è il partito il partito dei fanatici il partito di di Pavolini che prende il sopravvento e si sovrappone allo Stato della Repubblica Societaliana paradossalmente eh nella Repubblica Societaliana non abbiamo un capo dello Stato chi è il capo dello Stato della Repubblica? Non si sa non non è stato mai definito cioè sì Mussolini è il capo politico ma non c'era un capo un capo effettivo un capo eh simbolico era lo diveniva Pavolini come l'espressione del partito perché il partito era il fulcro effettivo di tutto in cui alla fine si girava intorno i i ministri ma anche i ministri i ministeri non erano tutti nella stessa località erano distribuiti se si parla di Repubblica di Salò ma non è che stesse la Salò erano in varie località quindi anche l'elemento diffuso del governo era funzionale era un po' la causa e l'effetto di questa frammentazione che portava il partito dei fanatici e quindi di Pavolini a primeggiare e avere anche un rapporto non indifferente con i tedeschi e poi questo è anche un elemento interessante nel rapporto tra istituzione della Repubblica Sociale Italiana e tedeschi perché poi il come sappiamo il mazzo in mano ce l'avevano i tedeschi. Esattamente quella è un'altra puntata che faremo anche sulla Repubblica Sociale Italiana lì parleremo del ruolo di Graziani, Junio Valerio Borghese se ci sta io lancierei un aprirei un ciclo insomma. Va bene volentieri volentieri. Per le prossime puntate chiameremo altri studiosi oltre Giovanni. Volentieri. Perché è interessante poi sono cose che vanno viste uno chiuderei visto che il tempo ci rimane nei sette minuti con i militanti Ettore Muti quello che dicevamo prima Gimda Giorgi Verdi si chiamato tu prima richiamando di fatto sì il partito mentre la destra storica era lo lo stato insomma etico quello del Regno d'Italia quando nacque poi appunto ci fu la sovvertimento cioè la senso che andò sopra sovraffece la lo stato appunto nel partito il partito si sovrapposa allo stato insomma sovvertimento dei valori insomma sì allora abbiamo detto che ehm chiuderei con Ettore Muti prego Giovanni Muti eh anche anche lui un personaggio particolarmente affascinante ehm uno dei più giovani tra i gerarchi che nonostante la giovanità partecipò alla prima guerra mondiale perché eh diciamo questa sorta di di mito personaggio questo questo giovanotto che aveva era poco più che adolescente che scappa di casa due volte per andarsi ad arruolare che fa un figurone eh come Ardito che poi si scopre avere un'identità falsa perché gli devono dare una ricompensa e non capiscono effettivamente chi sia e quindi lo li mandano a casa e gli annullano qualsiasi tipo di benemerenza militare ma lui decide che deve deve menare le mani perché è un uomo di poco cervello ma di grande energia e arriva a fiume e pure lì fa veramente eh il diavolo a quattro tant'è che appunto ottiene anche il il plauso e il riconoscimento dallo stesso eh d'annunzio e quindi è caratterizza la propria vita costantemente con il desiderio di non essere un uomo di pensiero ma essenzialmente un uomo di azione che vede la propria essenza nella nel combattere nel esporsi nel rischiare indipendentemente dall'elemento ideologico lui si ha delle idee capisce che il fascismo eh rappresenta secondo lui il il elemento patriottico genuino che in qualche modo ehm deve portare avanti dei valori ma lui non è che è troppo interessato a queste cose tant'è che secondo la testimonianza di eh di 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 Dino Grandi nel periodo della tarda tarda primaria del quarantatré si offre di uccidere Mussolini perché dice a me non interessa se comanda uno comanda un altro a me interessa il fatto di essere di essere partecipe della realizzazione di un determinato percorso che è quello di imprimere l'essenza del di un suo patriottismo ecco perché nella sua lunghissima eh carriera diciamo di militanza lui farà carriera nel nei ranghi prima della milizia poi dopo passerà all'aeronautica parteciperà alla guerra d'Etiopia alla guerra di Spagna parteciperà alla seconda guerra mondiale intermezzato da un anno come segretario del partito eh tra il trentanove e il quaranta quello che hm definivo prima il governo e il gabinetto eh Ciano porterà lo stesso eh lo stesso ehm Muti a essere incaricato come segretario del partito segretario del partito sostituendo eh Starace Starace che nel frattempo aveva scontentato tutti perché aveva espresso soltanto una ridondanza inutile di cerimonie eh di ostegui di elementi sterili no? Di 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 come diceva lo stesso Ciano cioè ehm Starace ha tanti difetti ma il principio di difetti è quello che ha annoiato gli italiani e quindi diciamo tu gli italiani puoi anche vessarli quanto ti pare ma accetteranno tutto tutto tranne la noia ecco Starace aveva ehm annoiato gli italiani e quindi eh Mussolini decide di di liberarsene e nasce la storiella che per una volta eh Ettore ha sconfitto Achille riprendendo gli elementi del invertiti del dell'Iliade quindi ecco che Ettore Muti aveva sconfitto Achille Starace ma anche questo periodo vede ehm vette vede Muti eh desideroso di combattere quindi il suo ruolo il suo ruolo come segretario del partito a Roma non gli piace lui vuole 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 pilotare è un è un veramente un fecataccio ha un numero incalcolabile di di medaglie e quindi anche durante appunto il periodo bellico continuerà con le sue attività ehm anche diciamo eh al limite dell'impossibile farà delle azioni militari eh prodigiose eh con dei bombardamenti nel Bahrain con veramente al rischio della vita costante diciamo aveva poca aveva poca ehm poco dava poco valore alla propria vita perché secondo lui la vita andava vissuta all'estremo anche negli amori anche nel nel dissipare soldi quindi era veramente uno sciupa femmine è uno sciupa eh uno sciupa capitali e e però sempre con questo suo piglio di vivere diciamo eh all'estremo qualsiasi esperienza fregandosene degli altri fregandosene eh bellamente di di quello che poteva eh di poteva ehm portare eh nel proprio perché appunto non non aveva un programma ecco perché non era ambizioso a parte l'ambizione di 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 menare le mani di essere sempre protagonista e alla fine eh la sua tragica morte una una morte che ancora oggi è possiamo dire avvolta nel mistero questa questa sua diciamo ehm questo conflitto a fuoco nella pineta di di fregene eh che non si capisce bene sì diciamo ci sono degli elementi che portano a a evidenziare come vi sia una responsabilità da parte della ehm del governo Badoglio delle delle filiere eh politico militari che possono in qualche modo aver provocato la morte eh di Muti sicuramente un personaggio che diciamo dava fastidio che eh aveva dei rapporti ambigui con i tedeschi quindi sappiamo come tra il venticinque luglio e l'otto settembre avere degli amborti rapporti ambigui con i tedeschi era sicuramente un elemento di di grande eh sospetto diciamo che la sua morte ehm secondo me ha più peggiorato le cose che giovato diciamo se l'obiettivo era quello di di levarselo dalle scatole nel senso che creerà un mito come come dissero all'epoca diciamo i i i i fascisti troveranno in Muti quello che gli antifascisti avevano trovato in Matteotti un martire tant'è che appunto poi nella 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 grammatica nella nell'epica della Repubblica Sociale Italiana Muti verrà definito il primo martire della Repubblica Sociale Italiana anche se nessuno ci dice che sarebbe stato da quella parte cioè sì abbiamo l'intuito che probabilmente poteva aderire alla Repubblica Sociale Italiana però diciamo che diciamo strano com'era eh in diciamo in ingestibile com'era poteva benissimo anche aderire al Regno del Sud e e nessuno se ne sarebbe eh stupito perché appunto era una testa matta che appunto faceva quello che nel momento gli gli andava di fare però appunto la sua morte sicuramente ha creato una una mitologia che poi ha prodotto una serie di eh anche di ehm di denominazioni sappiamo come molte unità della Repubblica Sociale Italiana saranno dedicate alla memoria di Ettore Muti e che appunto questa morte ha prodotto tutta una serie di dibattito tra diciamo nostalgici e antifascisti nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale appunto di Muti molto spesso si parla molto più della sua morte che di quello che ha fatto in in vita appunto diciamo l'elemento sicuramente militare ehm è di di valore nel senso le sue le sue azioni diciamo poi uno può criticare per le azioni più o meno cruente della guerra infatti come un combattente però diciamo che diciamo sicuramente eh le medaglie le medaglie al valore che ha ottenuto l'ha ottenute per azioni diciamo che comunemente vengono definite positive in ambito bellico abbiamo finito il tempo io direi una cosa ci rivediamo sicuramente a novembre e per bene oppure a dicembre quando vuoi tu per un focus sulla Repubblica Sociale Italiana va bene vedremo di processo di giurio Valerio Borghese e le Brigate Nere perché quella merita un secondo sì sì anche perché eh rientrano proprio nel contesto del rapporto eh tra poteri della Repubblica Sociale Italiana che che diciamo riescono a essere sintetizzabili nel nel nello scontro tra Pavolini e e Buffarini Guidi per semplificare. Se le vite parallele se potrebbe fare le vite parallele potremmo fare una cosa del genere sulle vite parallele eh in modo che anche perché è stato veramente molto interessante forse t'ho stancato sono stato troppo. No 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 guarda quando parlo di queste cose poi ti ho detto eh avendo avendo eh scritto questo libro che diciamo è stato oggetto di 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 notti insonne e non e non sto parlando metaforicamente eh quindi diciamo che eh sono diventati sono diventati parte della della tua vita. Cosa la muti teneva la casa nelle nelle mura se non sbaglio. Sì tra l'altro è è a cinque minuti da casa mia quindi diciamo è pure qua dietro. C'è una vita insomma c'è di solo tramore cose. Va bene. Perfetto. Io ti ringrazio e grazie. Ti ringrazio e termino qui e poi la carico su YouTube sul canale Storico Locale se vi iscrivete mi fate piacere. Grazie Giovanni. Ciao. Ciao. Ciao.